Allora, siamo qui questa sera con due giocatori dell'Adi Basket Cegliere per un'intervista doppia. Allora, nome e cognome? Marco, nome orecchia. Visti a tanto ora. Dove sei nato? Galatina, Lecce. Francavila, Contano. Dove vieni? Cegli Messari. Francavila. Saluta il tuo compagno. Ciao Cristiano. Ciao Martone. La squadra con cui giochi? Cegliere, basket. Basket Genia. Il tuo numero di maglia? Nove. Sette. Il tuo ruolo? Le guardie. Tutti. La tua partita più bella? Contro il Taranto. Barri. La tua partita più brutta? Carolina. Cristiano. Canta Forza Ceglie. Forza Ceglie. Ale, Forza Ceglie. Da quanto tempo conosci il tuo compagno di squadra? Da... Non ve lo so. Da qualche anno. Cinque anni. Quanto cinque anni. Un po' di due pezzo. Quattro cinque. Agua. Dimmi. Dimmi un pregio del tuo compagno. Simpatico. E altruista. Compagno, aspettate l'ora. Chi è più bravo fra di voi? Lui. Lui. Fai un urlo dopo una bomba. Sì! Manda a quel paese dopo un errore il tuo compagno. Ehi, cazzo, cazzo, meno, meno. Manco, cazzo! Dai, basta sta palla, cazzo! Quando ti fa arrabbiare il tuo compagno di squadra? Quando se ne va in controviede da solo, contro due, tre, quattro, cinque e avversario. E... Quando abbassa la destra e fa il ventia. Bum, 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 bum. Fai un'imitazione del tuo compagno. Eeeh... Ora cantate insieme Forza Cenea. Forza Cenea Ale. Forza Cenea Ale. Forza Cenea Ale. Fai una faccia brutta. Sei fidanzato? No La tua donna è ideale? Elisabetta Canaris Benissimo a voi Prima sera con la donna dei vostri sogni, cosa le proponete? Eeeh, una pasteggiata Una pasteggiata su una rito avanea L'ultima volta che hai fatto sesso La tua ragazza di 13 con il tuo migliore amico, tu che fai? Eeeh, bella domanda Sputo in faccia a lei Sputo in faccia a lui Io ammazzarei il territorio Quale sport ti appassiona contro il basket? Calcio Tennis La tua squadra del cuore? Lecce Dove lo sarei in chiusi? Lecce Se un albero ti fischia un fango inesistente, come reagisci? Ooooooh Ma smetti dal fettino, dai Il tuo giocatore preferito? Della squadra? Ciccio Gioia Grande Ciccio Gioia Crollato l'idolo Michael Jordan, c'è Ciccio Gioia adesso Che lavoro fai nella vita? Eeeh, operatore psicomotore Strutturista aeronautico Cosa vuoi fare da grande? Viaggiare Il bancho di un po' Come definisci il pubblico della domenica? Pello rosso Però Potrei preparare Stupendo Allora se vado in perpegnare il piano Fai un appello ai tifosi della tua squadra Stiamo uniti, stiamo uniti Sempre di più alla domenica Vedere parte Cosa ne pensi del tuo capitano? Professionista Cosa ne pensi dei tuoi compagni di squadra? Un gruppo Una famiglia Il più simpatico della tua squadra? A suo modo Polotta Adesso fammi un urlo Yeah Mandate a quel paese qualcuno Più di qualcuno? Ma vaffanculo Vaffanculo Ettore Quale caratteristica tecnica Dell'altro non hai ma vorresti avere? Il fiato La difesa Ogni tanto L'allenatore con cui vi siete trovati meglio Giovanni Vitale Angelo Vitale Saluta i tuoi tifosi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao Saluta la tua famiglia Ciao mamma Ciao Saluta il tuo compagno di squadra Ciao 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 Salute il sito Pallasport 2006 Ciao sito Pallasport 2006 Ciao Saluta il tuo compagno di squadra